Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin al cioccolato. Il tempo di preparazione per la ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono cioccolato al latte, farina, fecola di patate, cacao amaro, uova, zucchero semolato, panna fresca per dolci, olio di semi di arachidi, aroma di vaniglia, lievito per dolci vanigliato e sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Mettere il cioccolato da parte. Senza lavare il boccale, mettere la panna, lo zucchero, la farina, il cacao amaro, la fecola di patate, le uova, l'aroma di vaniglia, l'olio e il sale. ed azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 5. Aggiungere il lievito ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Aggiungere il cioccolato ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Aggiungere il bimbi per 20 Muffin. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa. I muffin sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Muffin al cacao! Grazie e alla prossima ricetta! Aggiungere il bimbi per 20 secondi a velocità Aggiungere il bimbi per 20 secondi a velocità